buongiorno buongiorno oggi si che è un buongiorno una cosa strana dal lato destro c'è il sole a sinistra è nuvoloso quindi potrebbe essere che cosa a sinistra passa da destra e da destra passano a sinistra come la politica oggi è 28? adesso è da Sant'Emilio santa? Sant'Emilio quante emili conosciamo? io conosco uno si chiama Emilio Laureato e lo saluto tu? poi c'è Emilio Solfrizzi l'attore pugliese poi c'è Emilio Fede Emilio Fede poi Emilio Carelli direttore di G24 prima adesso c'è la moglie di Sottile fa passare? vedo vedo signor per il resto per il resto ieri ti ho visto eh ieri ho incontrato agonia ieri per caso che facevi? mi fermo la zona la zona tua periferica periferica è l'unico è l'unico è il casto a giallo ma non è il giallo è il limone è il limone sì che succede? il giornale dice poco rispetto a 80 euro con una voglia di spendere Renzi con Marino si hanno dato la stretta di mano chi? Marino eh? Renzi si hanno dato la stretta di mano figlia Marino che Roma Nord sta messa male Roma Nord noi stiamo qua a Roma Nord la zona nostra dove abbiamo il baretto ha messa male lavori in corso fermi però sono lavori in corso che non sono in corso lavori in fori imperiali se non fai lavori pure i fori imperiali stanno a fare il lavoro la parata per il 2 giugno i fori imperiali c'hanno una precedenza quest'anno non si sa niente ma lo sa non si sa quest'anno se la parata la tagliano la tagliano? l'anno scorso i toni c'hanno armati a spinta c'è benzina la mattina siamo di poche parole canzoncina che mi piace che cosa ha preparato Luca lo sai? Luca? Luca? Va con la canzone Luca? Luca lo sai, lo sai che il cino si buca ancora Luca lo sai, lo sai che il miglio sta a casa, che sta male, male, le luca lo sa cosa che luca si buca si chiama silvia lo sa cosa che luca si buca ancora silvia lo sa che luca sta a casa che sta male male ha saputo che giovanotti come stessi meglio l'ho sentito ieri si sono a casa non deve stare a riposo salutiamo e saluta lorenzo canta di canzone di lorenzo su quale facciamo l'ombelico del mondo questo è 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 l'ombelico del mondo è una versione della sua grazie buona giornata grazie